Insomma, questa importante vittoria, sofferta, forse troppi errori sottoporta, contro un Genova comunque che si è dimostrato essere più forte di quello che magari tutti ci aspettavamo. E poi volevo chiederti che cosa ne pensi di tutto quello che sta succedendo al di fuori del mondo del calcio e come il calcio deve gestire questa emergenza. Si parla di partite a porte chiuse, non vorrei che il campionato ne risentisse anche in maniera importante. Ecco, vorrei sapere la tua, da che sei allenatore di una squadra importante. Ma io penso che per quello che sta succedendo sia giusto prendere le giuste precauzioni, fare tantissima prevenzione, cercare di sconfiggere e di capire soprattutto il problema fermando il campionato perché bisogna, insomma, non bisogna sottovalutare quello che sta capitando e penso che ci stiamo muovendo in una direzione giusta. La soluzione è di giocare a porte chiuse secondo te? No, a porte chiuse assolutamente no, perché il calcio sono i tifosi, quindi sono il succo del calcio i tifosi. Le giornate come oggi, tifoseria del Genova splendida, tifoseria della Lazio impressionante, quindi è giusto vivere con le tifoserie e quindi bisognerà cercare di porre rimedio a questa grandissima problematica che è arrivata. Poi voi, per quanto riguarda la partita di oggi, penso che affrontavamo una squadra in ottima salute che nelle ultime quattro, in tre partite non aveva preso gol, aveva fatto otto punti, i trasferti di Bergamo, Firenze e Bologna ne ha pareggiate due, vinta una, probabilmente avrebbe meritato di vincere anche quella di Firenze. Un'ottima squadra dove abbiamo fatto tre gol, dovevano essere di più, ho fatto i complimenti ai ragazzi, l'unico neo che avremmo dovuto fare il quarto gol, che a quel punto, insomma, su questo rigore dato al novantesimo non avremmo sofferto quei cinque minuti di recupero. Buonasera mister, complimenti per la vittoria, mi sento di fare i complimenti a molti elementi di questa squadra oggi, in particolare coloro che giovano un po' meno, oggi Lazio vince con Vavro titolare, con Patrick che fa un partitolo in difesa, con il gol di Marusic, ecco, lei non parla di scudetto, non ne ama parlare, ma è una rosa da scudetto questo? Ma io dico che sono una rosa di amici che si vogliono bene, che si divertono negli allenamenti e in campo. Poi, insomma, vedere un esempio oggi è Vavro, perché davanti a lui ha un marziano che si chiama Cerbi, oggi Vavro ha fatto una partita dopo due mesi e mezzo, è stato uno tra i migliori in campo, quindi penso che, per me che sono responsabile tecnico, è il massimo vedere Vavro giocare così dopo due mesi e mezzo, che è stato a riposo prima della vigilia della Supercoppa, ha avuto un brutto fortunio a Rem, è rientrato in 40 giorni e ha lavorato per esserci, per ritagliarsi delle giornate così, e penso che gli vanno fatti veramente i complimenti. Le chiedo l'ultima, lei che ha vinto uno scudetto in campo da calciatore, riconosce certi atteggiamenti in questa squadra? Io riconosco che stiamo facendo un qualcosa di grandissimo, i ragazzi lo sanno, quindi non mi nascondo nel dirglielo, perché insomma le ultime 21, 20 di campionato e 21 con la Supercoppa abbiamo fatto 17 vittorie e 4 pareggi. In altri campionati sicuramente saremmo in testa della classifica, qui dobbiamo combattere contro la Juventus e l'Inter, che a inizio campionato probabilmente insieme ad un altro paio di squadre erano sulla carta fuori concorso, ma con il lavoro di tutti i giorni, con lo straordinario lavoro di questi ragazzi, siamo tutti lì e ci giocheremo queste 13 partite nel migliore dei modi, cercando di migliorarci in ogni allenamento e prendendo le cose buone e meno buone in tutte le partite. Ciao Simone, ti volevo chiedere, a Cerbi com'è la situazione? È stato per precauzione? Non l'avete fatto giocare? Ha risentito il dolore durante il riscaldamento? Sì, a Cerbi ha avuto un problemino giovedì, venerdì e sabato l'abbiamo tenuto praticamente a riposo, oggi voleva esserci a tutti i costi, ha fatto il riscaldamento del migliore dei modi, nell'ultimo minuto ha sentito ancora un pochettino il soleo indurirsi un pochetto, si pensa e si spera che non ci sia nessuna lesione, adesso quando arriveremo a Roma andrà a fare l'accertamento, lui voleva giocare ugualmente, ma poi insomma assieme allo staff sanitario ne abbiamo parlato, gli abbiamo cercato di spiegare che mancano ancora 13 partite alla fine. Poi ti volevo chiedere, visto che ha segnato, chiederai a Cataldi di rifare la tua imitazione ogni settimana? Ma io penso che Danilo si sta meritando quello che sta ottenendo per il lavoro di tutti i giorni, e poi insomma se fa gol ogni domenica mi può imitare anche tutti i giorni. Buonasera mister, gli ultimi risultati raggiunti dalla Lazio vengono molto spesso confermati dalle sostituzioni che lei fa, possiamo dire che questa rosa non è corta come tanti hanno detto? Ma io penso che la rosa della Lazio sia stata molto ben costruita, abbiamo un direttore sportivo che su queste cose è un fuoriclasse, che sa che bisogna fare le cose per bene, è normale che probabilmente alla vigilia non ci davano in queste posizioni, però io ero molto fiducioso perché sapevo che questa squadra aveva margini di crescita e di miglioramento, perché secondo me nonostante i trofei vinti e le finali fatte negli ultimi anni, secondo me avevamo ancora un qualcosina da dare in più. Grazie. Grazie.